Allora rientriamo qui su Play, siete all'ascolto della trasmissione di informazione mattutina di RBA, ascolto magari anche la visione, vi ricordo potete guardarci anche in video, sono le 9.39 minuti, abbiamo molto da raccontare, soprattutto ritorniamo su un tema che in realtà abbiamo già un po' accennato, perché il comunicato di cui vi sto per parlare coglie l'occasione del G7 che si sta tenendo in questi giorni in Puglia per far passare il proprio messaggio e l'argomento della transizione energetica e dei finanziamenti pubblici a determinate fonti energetiche l'abbiamo già rapidamente toccato. Ma adesso voglio andare un po' più nel dettaglio perché ActionAid tramite la campagna Fund Our Future ha pubblicato intanto un rapporto in cui analizza i finanziamenti sia pubblici che privati nei confronti dei combustibili fossili, sia anche insomma un po' un appello ai membri del G7 per darsi una mossa davvero verso la transizione. Di tutto questo vogliamo parlare proprio con ActionAid e in particolare con Cristiano Maugeri a cui diamo il benvenuto qui su Play. Ciao Cristiano e grazie. Buongiorno Alessio, buongiorno a chi ci ascolta. No, grazie davvero anche perché sono temi purtroppo molto lontani dalle prime pagine. Questa trasmissione parte sempre dalle prime pagine ma sappiamo che anche dal punto di vista comunicativo i combustibili fossili vengono raccontati un po' male sicuramente in Italia, poi per carità non soltanto in Italia. Ma tra l'altro è interessante che un paio di giorni fa, intervistato da Repubblica, il segretario generale dell'Oneo, Antonio Gutierrez, invitava un po' a fare quello che state invitando a fare anche voi, cioè G7 fatevi davvero leader della transizione energetica globale, siate davvero voi per primi i paesi che abbandonano i combustibili fossili. E invece mi sembra di capire che fino ad ora non sia questo il caso perché lì si finanzia ancora moltissimo e questo è un po' il punto di partenza del vostro lavoro. Sì, è proprio questo il punto di partenza e che poi tocca anche altri aspetti, tra gli altri quelli che raccontavi tu un po', da una parte la complessità di raccontare certe cose, dall'altra anche l'incoerenza di alcuni dei governi, insomma, di prendere delle decisioni che siano realmente concrete ed efficaci. Insomma, quando andiamo a guardare dentro le analisi, come quella che abbiamo fatto, ci accorgiamo che anche quelle che sono le dichiarazioni fatte in questi contesti, come il G7, ma anche della COP, sono piene di scappatoie che poi vengono implementate. Questo ci porta appunto anche a raccontarvi il percorso che abbiamo fatto da ormai oltre un anno Accidenti fa una, porta avanti una campagna internazionale, siamo a Fondo Porti, quindi partiamo dall'analisi e ci domandiamo come, in che maniera effettivamente questa transizione è necessaria, perché sappiamo che le fonti fossili sono quelle maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 stia avvenendo. Ci siamo accorti che, quindi partendo prima dalle banche private, un lavoro che abbiamo fatto a livello internazionale, ci accorgiamo che c'è un'enormità ancora di flussi di denaro che vanno e continuano a finanziare le estrazioni di conti fossili. E poi abbiamo deciso di aggiungere un tassello a questa lettura, guardando un po' anche, si è da guardare anche un po' alle spese pubbliche, tra virgolette, anche se poi bisognerebbe aprire una parentesi di complessità qui. Quello che abbiamo fatto in Italia è andare a guardare come cazzo, depositi e prestiti, finanze, eventualmente la transizione o che tipo di finanziamenti energetici porta avanti. Quindi l'abbiamo fatto attraverso un'analisi che è da primo luogo, analizzare le polisi interna dell'organizzazione. Le polisi sono un po', mi viene da dire, come se fossero le analisi del sangue un po' di un'organizzazione, no? Cioè, a differenza di quello che comunichiamo, che si comunica fuori o che sembra fuori, poi a volte ci si accorge, andando a guardare proprio nel dettaglio cosa si è messo in piedi, e lì abbiamo identificato appunto queste famose scappatoie. Cioè, ci si dota anche di polisi importanti, interessanti, anche quelle energetiche, che però poi dentro queste polisi ci sono appunto vie di uscita molto evidenti. E l'analisi ci dice appunto, la prima parte del rapporto che analizza le polisi di cazzo, depositi e prestiti verifia proprio un totale non allineato, lo definiamo nel rapporto, rispetto a quelli che sarebbero le ambizioni dell'Accordo di Parigi. E poi andiamo anche a guardare un po' i numeri per verificare questa cosa, quindi abbiamo preso il portafoglio energetico di cazzo, depositi e prestiti dal 2016 al 2022, una bella fetta di anni dall'implementazione dell'Accordo di Parigi, poi ci accorgiamo che continuano ad esserci grosse parti del portafoglio internazionale che vengono investite ancora in conti fossili. Questo avviene in diversi modi, soprattutto avviene nell'internazionale e in particolare avviene proprio nei paesi che di più di recente è tornato di moda a dire che ci preoccupiamo, di cui ci preoccupiamo, quindi prevalentemente in Africa. Abbiamo scoperto, ad esempio, dobbiamo anche già che c'è un grossissimo investimento nell'estrazione del gas liquido in Mozambico, ad esempio, ma poi ci sono anche investimenti in Egitto, insomma gran parte sono nel cosiddetto global south, quello che oggi chiamiamo il sud globale. Quindi, a differenza di quello che spesso in questi contesti viene dichiarato come percorso intrapreso e vengono presi anche degli impegni concreti, poi nei numeri specifici ci accorgiamo che in realtà le cose sono ben diverse. Esatto, sì, e purtroppo non è nemmeno una eccezione italiana. L'Italia è il sesto tra i paesi del G20, leggo nel vostro comunicato, per sovvenzioni pubbliche ai combustibili fossili dietro Canada, Corea del Sud, Giappone, Cina e India, che alcuni di questi tra l'altro sono anch'essi presenti al G7, quindi proprio l'occasione viene colta. E comunque sovvenzioniamo a livello pubblico i combustibili fossili più degli Stati Uniti, che è una cosa che forse ci sorprende semplicemente perché ci immaginiamo che gli Stati Uniti spendono sempre più di tutti per tutto, perché le capacità economiche sono diverse, ciò nonostante l'Italia investe di più appunto nei combustibili fossili. Faccio una precisazione che forse è importante per non essere polviante, cioè l'investimento diretto è una cosa, la sovvenzione è una cosa diversa, quindi insomma non siamo un paese che investe di più nei combustibili fossili, altrimenti avremo dei numeri solitanti per quanto siano dei numeri molto importanti i nostri, poi la questione delle sovvenzioni è una cosa più complessa, viene in maniera più articolata e lì sì che siamo tra i paesi che maggiormente sovvenzionano il settore, quindi questo ci permette anche di dire che nonostante senza dubbio ci sia stato, perché è anche giusto sottolineare adesso, ci sia stato un interesse, un percorso verso una transizione energetica e gli investimenti crescono anche in quella direzione, dall'altra però esiste anche una forma appunto di sovvenzione che in qualche maniera neutralizza, quindi possiamo continuare a dire che ci sia uno sforzo maggiore nel mantenere lo status quo, nel mantenere il continuo investimento e anche sovvenzioni nel fossile di quanto invece non avvenga verso forze di energia pulita, questa è un po' la sintesi estrema di questa considerazione. Sì che poi è anche una distorsione se vogliamo del mercato e della narrazione del mercato anche, perché viene fatta bastare l'idea per cui passare alle fonti rinnovabili sia troppo costoso, non possiamo farci carico di questa spesa, abbiamo i combustibili fossili, sono così economici? Beh sono così economici anche perché spendiamo tantissimo per sostenerne l'estrazione e la loro diffusione, se invece questi soldi li trasferissimo sull'energia rinnovabile, sto facendo un ragionamento molto semplicistico, però a grandi linee è anche un po' questo il problema, no? Sì sì, a grandi linee è assolutamente quello il problema, dentro l'accordo di Parigi c'è un articolo specifico che parla di necessità di accompagnare la transizione e ci accorgiamo di quanto questa cosa sia estremamente difficile, non stia di fatto avvenendo, per l'appunto abbiamo notato tutti, in tutti i grandi eventi internazionali, come ci sono delle dichiarazioni a volte roboanti, alle quali però poi c'è sempre una via d'uscita. Nella COP di qualche anno fa, nel 2021, la COP26, tra l'altro quella prima dopo il Covid anche coorganizzata dall'Italia, molti paesi avevano firmato o avevano fatto una dichiarazione, diventata famosa come dichiarazione di Glasgow, in cui si impegnavano a non finanziare con fondi pubblici, nello strettissimo periodo, l'estrazione dei fossili. È rimasta lettera morta, proprio perché ci sono queste fantomatiche scappatoie, e nello specifico, nel nostro caso, la scappatoia alla quale si ricorre più facilmente è quella della sicurezza energetica, quindi in questi anni, poi a seguito anche del conflitto in Ucraina, si è ricorso a questa considerazione della sicurezza energetica, che però viene poi facilmente smontata, perché il consumo di gas, il piccolo consumo di gas è stato raggiunto in fretta, in qualche maniera si è assestata su altro il consumo, quindi si fanno delle dichiarazioni, sono anche spesso dei passi avanti, perché evidentemente evidenziano un cambiamento delle politiche, della percezione delle politiche, però non sono sufficienti, e non sono sufficienti rispetto alla necessità di muoversi molto in fretta, perché gli effetti climatici, il cambiamento climatico, non sono più lontani da casa nostra, sono ormai evidenti nel nostro quotidiano. Esatto, esatto, quindi insomma, viene fatta passare come questione ideologica molto spesso con il cambiamento climatico, quando forse ormai siamo decisamente dal lato opposto. Allora, tutto questo viene raccontato con un po' più di dettaglio nel report che avete appunto pubblicato, lo si trova sul vostro sito, c'è anche una versione un po' più ristretta, in cui insomma i dati vengono un po' più concentrati, nel caso non abbiate il tempo, lo posso capire di leggere tante pagine di rapporto, e sia all'interno di questo rapporto, sia all'interno del comunicato che avete diffuso qualche giorno fa, ci sono anche delle raccomandazioni al nostro governo, quindi si c'è la critica, c'è l'analisi molto critica di quello che è stato fatto fino ad adesso, ma c'è anche l'aspetto propositivo, ok, d'ora in avanti dovremmo fare così, e quindi quali sono le indicazioni e le raccomandazioni? Beh, innanzitutto chiediamo di riprendere in maniera più strutturata l'allineamento agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, chiediamo di interrompere il sostegno pubblico al settore energetico, in quella dichiarazione di cui vi parlavo prima, quella di Glasgow si raccontava anche la necessità, e si prendeva anche l'impegno nell'incoraggiare altri governi a fare lo stesso, quindi un evento come quello del G7 potrebbe essere un momento importante per andare in quella direzione. Tra le altre cose, andando anche più nel dettaglio di quello che sta avvenendo, più di recente, chiediamo anche di ritornare a utilizzare quel famoso fondo italiano per il clima, che è un fondo che è stato proprio lanciato in quella COP del 2021, che è un fondo consistente proprio in termini di impegno, che però è stato in questi ultimi due anni un po' spostato dalle sue principali ambizioni, quindi ad esempio il primo investimento che si è deciso di fare dopo che si è messo in piedi una struttura per gestirlo è quello dei biocarburanti in Kenya, tra l'altro assegnandolo all'Eni, quindi c'è tutta una serie di incoerenze in questo percorso, chiediamo inoltre anche che l'Italia abbandoni un po' questo percorso di convertirsi in un hub del gas in Mediterraneo, perché anche lì ci troviamo molte perplessità di fronte a questa nuova visione dell'utilizzo del gas come alternativa. Ci sono delle fonti alternative, è necessario che ci sia un consistente e deciso investimento in quella direzione. Chiaro, chiaro. Mi sentivi battere sulla tessera perché stavo cercando l'intervista che ho fatto poche settimane fa a Carlotta Indiano, giornalista che si è occupata, tra le altre cose, proprio di analizzare la politica sul biocarburante, tra l'altro proprio i progetti in Kenya, quindi se volete approfondirla la potete recuperare sul nostro sito. Insomma, noi ci uniamo chiaramente all'appello alle raccomandazioni di ActionAid. Purtroppo mi sembra che per ora G7 la questione del cambiamento climatico e della transizione l'abbia lasciata da parte. Lasciamo una piccola porta di speranza aperta rispetto al proseguimento di questo summit. Chiaramente sperando che di questo argomento a un certo punto si ricordino, ma intanto grazie mille che siano maugeri per questo racconto, questa spiegazione. Avremo modo, immagino, di risentirci in futuro, ma intanto buona giornata e alla prossima. Grazie, buona giornata a te e buona giornata a voi. Grazie.